Clima politico teso anche ad Andria in vista del Consiglio Comunale del prossimo 8 agosto in discussione le questioni di bilancio ma anche i rapporti con il Sindaco finito nel mirino di Forza Italia ed ora anche di noi con l'Italia. Clima politico teso ad Andria, l'attenzione è concentrata sugli equilibri di bilancio. Mercoledì 8 e giovedì 9 agosto, convocato il Consiglio Comunale chiamato ad accertare lo stato di disequilibrio dichiarato dalla dirigente del settore finanziario del Comune di Andria e ribadito dal Collegio dei Revisori dei Conti. Dopo le nuove richieste di convocazione di una riunione di maggioranza per discutere le delicatissime questioni finanziarie avanzate da Forza Italia e dopo le risposte del Sindaco, anche il partito noi con l'Italia interviene. Non è più possibile tollerare l'arroganza del Sindaco nei confronti dei partiti che lo hanno spinto sulla poltrona più importante di Palazzo San Francesco. I vertici provinciale e cittadino di noi con l'Italia, l'onorevole Benedetto Fucci e l'avvocato Maria Teresa Forlano, prendono atto di una situazione politica diventata insostenibile e sollecitano il primo cittadino a riprendere il controllo dei nervi e a ripristinare quel clima di dialettica improntato al rispetto delle liste che gli hanno consentito la riconferma alla guida della città. Non ci è mai piaciuta l'idea dell'uomo solo al comando, dichiarano e non ci piace per niente l'atteggiamento di onnipotenza adottato dal Sindaco nell'ultimo scorcio di consigliatura. Sottoscriviamo con assoluta convinzione le parole del consigliere comunale Antonio Sgaramella quando ricorda al primo cittadino che sta lì per la seconda volta consecutiva grazie a 300 andriesi che ci hanno messo la faccia e a tante migliaia di concittadini che hanno messo un segno sulla scheda elettorale e a questi, innanzitutto, che il Sindaco continua a mancare di rispetto e adesso è arrivato il momento di dire basta. L'impressione, secondo il partito che fa capo a Raffaele Fitto, è che colui il quale avrebbe dovuto comportarsi da collante della coalizione di centrodestra e da garante della sua tenuta, si stia in realtà comportando da piccolo ras adottando atteggiamenti finalizzati a dividere anziché a unire con la volontà precisa di alimentare unicamente la fedeltà dei pochi ammessi al cerchio magico e soprattutto sottraendosi al confronto e alle legittime richieste di spiegazioni che giungono dai partiti e dalle liste della compagine. Per noi con l'Italia, il Sindaco non può scaricare sui partiti le responsabilità della grave crisi finanziaria del Comune dal momento che egli stesso è stato assessore al bilancio e quindi era obbligato a tenere sotto controllo i conti e i flussi finanziari, nonché la programmazione economica dell'ente. Adesso fugge, snobba chiunque esprima un pensiero differente dal suo, risponde con sufficienza, si affida ai social attraverso i suoi costriter, litiga con la neodirigente del settore a cui chiede di continuare a nascondere la polvere sotto il tappeto in attesa di tempi migliori. La città, rileva noi con l'Italia, lamenta una carenza di progettualità e divisione d'insieme che non può più prolungarsi e che è l'effetto di troppe aspettative personali andate deluse e trova proprio nella totale assenza di interlocuzione con le forze politiche la sua certificazione inoppugnabile.